E chiudo questa rosa di recensioni di oggi, che mi sembrano già una bella infornata, con il secondo album a nome proprio Big Boy, Sir Lucius Left Foot, uscito per la Def Jam nel 2010. Allora, lui è uno dei membri fondatori degli Outcast, che è un collettivo fondamentale dell'hip hop anni 90, con Akenimi, dietro uno dei capolavori del genere, il disco mi pare sia del 97 o del 98, che io ho, che vendette pure parecchio, insomma, chi ha vissuto gli anni 90 quel disco ce l'aveva, anche chi non ascoltava hip hop, perché comunque era un disco che vendette anche abbastanza bene. E fu uno dei dischi innovatori del genere, insomma, uno dei dischi più importanti hip hop degli anni 90. Lui si mise poi in proprio, fece delle cose sue, e il secondo album, che è questo, è un po' da tutti considerato il suo migliore. Allora, questo è proprio un concentrato nel bene e nel male della coattanza del personaggio. Lui è tamarro da morire, ecco, voi dite, Tony Tumilli, e questi non si sono inventati niente, perché questo qua, quelle cose lì, un po' cazzone. Già le faceva, a quant'è, 14 anni fa, ecco. Quindi, lui già aveva anticipato il cazzeggio del testo che non va preso alla lettera, che c'è questa autorionia, molto kitsch, molto trash. Cioè, in Italia non ci siamo mai inventati nulla, in qualsiasi genere. Siamo sempre arrivati con qualche anno di ritardo. Come diceva Edgar Varese, non esiste l'avanguardia, c'è solo gente in po' ritardo. Ecco, gli italiani sono tutti in po' ritardo in questo. Gli italiani poi, come anche gli altri paesi europei, non è che gli altri stanno poi tanto meglio di noi. A meno che forse non parliamo di Germania o qualche altra cosa, ma insomma, non è che siamo proprio i più stupidi del bigoncio qua. Ecco. Allora, questo disco qui è effettivamente molto, molto divertente, ma oltre che molto divertente, è anche molto figo. Basi fatte molto benissimo. C'è pure Chanel Monet, come in due o tre pezzi, partecipa. Ed era appena uscito il suo capolavoro ad Arknondroid. Che ho recensito, mi pare, a gennaio. Sì, o a fine dicembre o a gennaio. E quello è un colossal del soul moderno. E qua ci stanno, insomma, svariati pezzi molto eterogenei, da cui si va appunto dal tipo più pseudogangsta a roba più elettronica. Quindi con basi abbastanza eclettiche. A volte funzionano bene, a volte meno. Su questi testi, ovviamente, autoironici. Improntati, ovviamente, successo, donne, ignote, tutto quello che concerne i cliché del genere. Però, insomma, magari, ecco, c'è qualche pezzo di troppo. Adesso non mi ricordo, i pezzi saranno tipo 12. Qualcosa poteva essere sfoltito. Ma è un disco che, nel genere suo, anche un po' boom-bap, va bene. Cioè, nel senso che funziona un po' tutto. Le basi, come dicevo, sono costruite bene da DJ professionisti del settore. Alcuni anche abbastanza famosi, di cui adesso la mia memoria deficitaria si scorda. Ma comunque, basta che guardate su Wikipedia, troverete tutti i crediti. È un disco che ha venduto anche abbastanza bene. È un disco che se io ce l'ho, vuol dire che mi piace. Lo stavo riascoltando un attimo adesso, mentre prendevo il caffè. E ho deciso di recensirlo, perché ne vale la pena. Il primo album, lo ricordo di meno, infatti non l'ho. Questo del 2010, trapposto, ma soprattutto gli Outcast, con quel disco del 98 che vi dicevo. Quello ce l'ho da qualche parte, appena lo caccio fuori ve lo presento. Perché quello bisogna farci proprio un bel discorso sopra. Perché quella è proprio una pietra miliare dell'hip-hop anni 90. E detto questo, per oggi penso che sia veramente tutto. Buon ascolto e ci sentiamo prossimamente domani. Vediamo, dai. Ciao, ciao. Ciao.